No, Blade of Roses Blade of Roses No, non quello di Blade of Roses Ma no, ok Quello, sta facendo quello No, ma non sono capace Sta improvvisando, non lo so, però No, no, no Per me no, sta giocando su quella tonalità No, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti